Certamente il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti sembrerebbe rubarci la speranza e la gioia. Le pressioni e l'impotenza di fronte a tante situazioni sembrerebbero inaridirci l'anima e renderci insensibili di fronte agli innumerorevoli sfide. E paradossalmente, quando tutto si accelera per costruire in teoria una società migliore, alla fine non si ha tempo per niente e per nessuno. Perdiamo il tempo per la famiglia, il tempo per la comunità, perdiamo il tempo per l'amicizia, per la solidarietà e per la memoria. Ci farà bene domandarci come è possibile vivere la gioia del Vangelo oggi all'interno delle nostre città? E' possibile la speranza cristiana in questa situazione qui e ora? Queste due domande toccano la nostra identità, la vita delle nostre famiglie, dei nostri paesi, delle nostre città. Toccano la vita dei nostri figli, dei nostri giovani ed esigano da parte nostra un nuovo modo di situarci nella storia. Se continuano ad essere possibile la gioia e la speranza cristiana, non possiamo, non vogliamo rimanere davanti a tante situazioni dolorose, come mere spettatori che guardano il cielo aspettando che smetta di piovere. Tutto ciò che accade esige da noi che guardiamo al presente con audacia, con l'audacia di chi sa che la gioia della salvezza prende forma nella vita quotidiana, nella casa di una giovane di Nazare. Grazie. Grazie.